In attesa di conferme e di riconferme, la Vibonese incastona due tasselli sul mosaico rosso-blu targato 2015-2016. Si tratta di un difensore di esperienza e di un promettente attaccante. Farà parte del pacchetto arretrato Salvatore Scoppetta, nato a Belvedere Marittimo il 16 maggio dell'86, e reduce da due stagioni consecutive con la maglia dell'Interreggio in serie D. Cresciuto nel settore giovanile della regina il neoacquisto, rosso-blu vanta diverse stagioni nel massimo torneo di lettanti con le maglie di Trento, Sapri, Viterbese, Martina, Flaminia e Ragusa. L'altro volto nuovo della Vibonese è il centravanti Silvio Vincenzo Calabrese, nato a Caltanissette il 25 marzo del 1996. Scuola Palermo Calabrese ha al suo attivo un'esperienza all'Aquila e Lega Pro, mentre nell'ultima stagione ha giocato prima a Noto e poi con il Val d'Aosta. Due pedine scelte di concerto con mister Di Maria, il quale ora attende che la dirigenza di Via Piazza d'Armi trovi gli accordi con i pezzi pregiati della formazione che ha riportato a Vibola Serie D dopo un anno di inferno in eccellenza. In questo senso nelle prossime ore dovrebbero sfilare i rinnovi degli attaccanti da Dalt, Allegretti, Garà e dai centrocampisti Cosenza e Puntoriere.